E' giunta alla sua sesta edizione la fiera campionaria della Sardegna che quest'anno occupa una superficie di 30.000 metri quadrati, ospita 300 stands e 2.600 ditte dell'isola e del continente. Nella sua visita Eloisa Cianni ha incontrato Miss Sardegna. Sembrano tutte e due particolarmente interessate alle macchine agricole che troveranno lavoro nel vicino Campidano, oasi di smeraldo nel roseo e bruno intaglio dell'isola. Questa terra che condivide molti dei problemi dell'Italia meridionale è animata dal suo profondo senso civile a colmare le distanze che la separano dal continente.